Poi ci sono qualcuno che io identifico come i grilli parlanti, se fossimo state alle parole di qualcuno forse non avremmo realizzato nulla in questa città, cosa che non è affatto vero e sotto gli occhi di tutti ed è evidente. Pista di pattinaggio di via Barletta. Passaggio a livello di via Trani non interrato. Villa Comunale di Andrea, centro dopo di noi. Centro Fornaci, inaugurato e mai consegnato. San Valentino, la storia infinita. Bikesharing, no bike, no sharing. Ex carcere mandamentale di Andrea, quartiere Santa Maria Vetere. Centro d'ascolto in piazza Sant'Agostino. E sotto gli occhi di tutti ed è evidente. In effetti è sotto gli occhi di tutti, basta con questo intervallo. In effetto. In effetti? Grazie a tutti.